Ciao fangirl e fanboy, benvenuti e bentornati sul mio canale. Avrete notato che da un bel po' di tempo, da un mese, considerato che avevo detto che avrei pubblicato ogni due settimane, è un bel po' di tempo, non sto più pubblicando e la ragione principale è molto semplice. Non ho più voglia di leggere, quantomeno come prima, ma semplicemente perché mi sto allontanando da Booktube Italia, perché non mi appassiona più come prima, non so bene perché, ma anche le persone che seguivo prima, in qualche modo mi appassionano meno, mi sto allontanando un po' da Booktube Italia. È una cosa abbastanza recente, anche se l'ultimo libro che ho letto è stato effettivamente Echim Tempesta ad agosto, per cui non è successo tutto d'un colpo, ma è già da un po'. Spero di tornare a leggere, perché non ho più letto da allora, e di conseguenza di fare video, però non so bene quando accadrà, spero il più presto possibile, però al momento non so dire... Scusate, devo andare subito a leggere. Grazie a tutti!